Se stai cercando la casa dei tuoi sogni, non cercare oltre. Benvenuti in questo splendido appartamento di quattro locali con cucina abitabile, doppi servizi, cantina e box auto, situato nel cuore di Cologno Centro, a due passi dalla metropolitana. Questo appartamento vanta una metratura generosa, e uno spazio ben distribuito, perfetto per soddisfare tutte le esigenze della tua famiglia. Entrando, sarai accolto da un ampio e luminoso salone, dotato anche di un grazioso terrazzino dove potrai goderti momenti di relax all'aria aperta. La cucina abitabile, con un balcone adiacente, è il cuore pulsante della casa, ideale per riunioni familiari e cene con gli amici. Il disimpegno notte conduce alla zona privata dell'appartamento, composta da una spaziosa camera matrimoniale e due accoglienti camerette, tutte bagnate dalla luce naturale che filtra dalle finestre orientate sia a est che a ovest. I due bagni, uno con vasca e l'altro con box doccia e zona lavanderia, offrono il massimo del comfort e della funzionalità per te e la tua famiglia. E non dimentichiamoci delle spese condominiali contenute e del riscaldamento autonomo, che garantiscono un'economia e un comfort senza pari. Inoltre, la proprietà include una cantina di circa 10 metri quadrati, perfetta per conservare i tuoi effetti personali in modo ordinato e sicuro, e un comodo box auto all'interno del condominio, per parcheggiare la tua auto senza stress. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di vivere nel cuore di Cologno Centro, vicino a tutti i servizi principali e alla metropolitana. Contattaci oggi stesso per prenotare una visita e inizia a immaginare la tua nuova vita in questo splendido appartamento. Siamo qui per realizzare i tuoi sogni di casa. Siamo qui per realizzare i tuoi sogni.